The Wise I The Wise sono compagni di classe da 10 anni ed è proprio sui banchi di scuola che decidono di formare una band Sono bravi ragazzi, un po' nerd e un po' hipster si vogliono molto bene e condividono la passione per la musica Il loro punto di forza è proprio la loro amicizia di vecchia data Amano il rock e il folk I loro punti di riferimento sono i Man For And Souls e i Fleet Foxes Suonano la chitarra, basso, batteria, piano e il banjo Sinceramente non sono i miei preferiti Voi cosa ne pensate di loro? Fatemelo sapere!